Io la maratona di New York l'ho fatta nel 2015, la mia manetta finisher era una delle esperienze più belle della mia vita, che è talmente particolare e importante emozione che quando abbiamo discusso di cosa potremmo regalare ai nostri clienti, ci è venuta in mente proprio questa maratona di New York. Portare qualcuno, regalare a qualcuno la possibilità di correre a New York è un po' il dare qualcosa ad altri che la corsa mi ha regalato. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.